Salve, vlog in diretta, indirettissima, sembro tipo un cefrone, un leone, mi sono laureata, come si capisce tipo mi sono laureata, no? Mi sono laureata da qualche ora, madonna, sono sfondatissima infatti, questo è il mio outfit, giustamente c'è un computer, ecco, faccio vedere, avevo i tronchetti prima, ho fatto questo stile un po' bon ton, diciamo chic, avevo tipo il zacchino con i tronchetti e questa camicettina molto diverso dal solito dubbino, questa è la mia tesi, ho fatto tipo questo effetto nuvolato, come si dice, perché portavo l'inconscio, infatti la mia tesi si chiama unconsciousness e ho fatto una tesi su delle fotografie, al momento non ho il progetto, ma era una casta di palla, tanta di ferro in cui ho messo le mie foto, le telle che se ne cadono anche durante la tesi, devo dire, mi hanno un po' compagnotato, ma sono uscita vittoriosa e è andata abbastanza bene, purtroppo non mi sono data con il massimo, quindi, però abbastanza alto, devo dire la verità, mi aspettavo di meno all'inizio, mi hanno abbassato i punti tesi, non è colpa mia, altrimenti, comunque, per me è sempre un cento di pierce, questo è il bracciale che mi ha fatto la mia amica, questo è la nail art che mi sono fatta, qui sopra tutta nera e sempre nei regali, a parte che ho avuto un botto di fiori e volevo salutare il mio amico che mi ha fatto questa sorpresa, è stata una delle cose che mi stava facendo piangere, devo dire, sto ancora tipo piangere, perché non me l'aspettavo né che state venute, non mi aspettavo una cosa troppo carina di questa e ringrazio appunto chi c'era che mi ha buffato di fotografie, appunto Fabio e Filippo e tutti quelli che sono venuti, e poi faccio un video un po' più decente dove vi spiegherò altre cose, madonna santo, domani c'è la festa, è il tempo di una merda, ma di una di quelle merde.